Sono stati arrestati quattro esponenti del clan Casamonica ritenuti responsabili del pestaggio ai danni di una donna disabile e del titolare del Roxy Bar nel quartiere romanina a Roma. Sono accusati di violenza privata e lesioni personali pluriaggravate dall'avere agito in concorso, dai futili motivi dall'avere ostacolato la privata difesa e dall'utilizzo di un'arma impropria, con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso. Gli arrestati dalla polizia sono Antonio Casamonica, 26 anni, ed Enrico Di Silvio, 71 anni, mentre Vincenzo Di Silvio, di 28 anni, e Alfredo Di Silvio, di 22, si sono costituiti ai carabinieri. I fatti risalgono al primo aprile, quando Antonio Casamonica e Alfredo Di Silvio, infastiditi con il barista che non li stava servendo, si erano rivolti a una cliente in fila lamentandosi. Poi, irritati dal fatto che la donna avesse preso le difese dell'uomo, le avevano sfilato gli occhiali, aggredita e picchiata con una cinta, procurandole ecchimusi ed ematomi, e l'avevano minacciata. Poco dopo, Di Silvio Alfredo era tornato con il fratello Vincenzo, per aggredire il proprietario del bar. A Enrico Di Silvio è contestato il fatto di aver tentato, con violenze e minacce reiterate, di costringere i gestori del locale a ritirare la denuncia presentata nei confronti dei suoi nipoti, offrendo anche soldi e pronunciando la frase intimidatoria, allora volete la guerra?